Potete darmi una mano? Avete voglia di farlo? Io vi lo chiedo davvero per favore, perché io non voglio morire, voglio vivere, ho fatto delle promesse e le voglio mantenere. Il video in cui racconta la sua storia e fa un appello a chi voglia sostenerlo per sconfiggere la malattia ha fatto il giro della rete e migliaia hanno risposto con una donazione. La storia di Lorenzo Farinelli, 34 anni di Ancona, nella vita medico e attore. Otto mesi fa gli è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, una forma aggressiva resistente alla camioterapia. La speranza per lui è poter accedere al protocollo terapeutico chiamato CAR-T negli Stati Uniti, da pochissimo approdato anche in Europa, a Milano. Si tratta di cure costose e così, con l'aiuto degli amici, si è attivata una gara di solidarietà attraverso il sito salviamolo.it e GoFundMe, una piattaforma che consente di donare il proprio contributo. Il cuore della gente è grande, per cui quando ci sono occasioni poi dopo ci stringiamo tutti. Poi Lorenzo è una persona che è amata, che ha dato tutto, lui è diventato medico per aiutare gli altri. Per ironia della sorte si trova ad aver bisogno di aiuto, ma ha dato talmente tanto in passato che gli sta tornando. Tra gli amici che stanno sostenendo Lorenzo ci sono i compagni del Laboratorio Teatrale San Paolo di Ancona, tra loro anche Lara, che ha organizzato un torneo amatoriale di calcetto presso il pallone geodetico per raccogliere fondi. Siamo riusciti a formare anche dieci squadre, tantissimi ragazzi hanno deciso di partecipare e aiutarci in questa iniziativa. Anche coloro che non giocheranno hanno deciso comunque di intervenire, di venire ugualmente, anche assistere. In programma ci sono anche spettacoli teatrali organizzati dai gruppi con cui Lorenzo collabora. Primo tra tutti Atlantis, l'ultimo impero, che andrà in scena sabato 23 febbraio allo sperimentale di Ancona e di cui Lorenzo ha curato la regia. Lui ci vedrà, ci vedrà via streaming, per cui ci bacchetterà come sempre ha fatto, se qualcosa non va come dice lui. La speranza di tutti è di vederlo al più presto sul palco, come un anno fa quando rivestiva il ruolo di protagonista nello spettacolo La Bella e la Bestia. Gli amici, ma anche chi lo ha conosciuto solo attraverso il video, fanno tutti il tifo per lui. Noi non ti lasceremo mai solo, tu sii forte, tu pensa a combattere la tua malattia, che il resto pensiamo noi. Non ti abbandoneremo mai, ci saremo sempre, fino a che tu hai bisogno di noi. E poi ci rivedremo e faremo una grande festa insieme. Ciao Lori.